Questa mattina partiamo, andiamo sul lago di Garda, direzione Forra, ma prima una cosa molto importante La colazione Elena, finisci la colazione con calma, tanto non c'è fretta E noi siamo già pronti per andare via, Elena, vai con calma Siamo arrivati? Siamo arrivati? No, non siamo proprio arrivati Siamo usciti a Brescia, adesso abbiamo fatto rifornimento, abbiamo fatto benzina Qui ci sono gli altri biker Questo sistema è alterativo qui Fate cheese? Ciao cari, cheese! No, è un video Tony e Marzia Ciao Elena, tizzi Cesare Ho portato qui il gruppo perché sapevo di questo parcheggio molto comodo Se ci vengo un'altra volta è la seconda Non mi rimane più voi che l'amore Cinque? Peccato che noi siamo in dieci Scusate, devo prendere tre piccioni con una pava e andiamo su Vabbè andiamo a prendere i piccioni dai Ciao E il caffè assieme Ciao 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 Come vi sentite? Ditemi un parere Troppo forte Siete contenti? Speriamo che piova Che così la facciamo con molto più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti